Io vorrei far vedere però i dati reali dell'economia italiana, perché ho preparato dei dati sul Covid, forse vale la pena di vederli. Allora, gli effetti del Covid sull'economia italiana, come sempre pillole di eresia economica. Chiedo gentilmente se possiamo vedere la prima, grazie molte. Allora, questo è un dato, Fabio mi rivolgo a te naturalmente, questo è un dato peggiore di quelli che abbiamo visto nelle scorse settimane. Abbiamo visto il calo del fatturato, abbiamo visto l'effetto fiscale, abbiamo visto la crisi di liquidità. Qui io devo spiegare un attimo, ho scelto, ho fatto scegliere dei ricercatori alcuni dati molto semplici ma molto importanti nell'economia, nell'analisi delle aziende. Allora, qui confronto le piccole e le medie imprese, la prima informazione è che vanno male tutti, cioè sia le piccole sia le medie imprese. Ci sono tre numeri importanti che sono il fatturato, che tutti sanno che cos'è, il MOL che vuol dire margine operativo lordo e il ROE che invece vuol dire return on equity. Spiego brevissimamente cosa vogliono dire. Il MOL o margine operativo lordo di fatto è un primo indicatore diciamo aziendale, viene anche definito EBDA nel linguaggio internazionale, cioè guadagno prima degli interessi, degli ammortamenti e delle tasse. Che vordì? Vordì, come diceva a Roma, che vordì? Vordì, la differenza tra i ricavi e i costi, quindi è il margine, chiamiamolo lordo, il primo margine economico e lì comincia a capire se un'azienda sta in piedi o non sta in piedi. Cioè tu dici io spendo 10, incasso 15, quindi il margine è 5. Allora in sintesi è fatturato meno acquisti, meno servizi, meno personale, quindi se tu prendi il fatturato, togli tutte le materie prime, gli acquisti, tutti i servizi, tutte le fatture passive e togli il tuo personale, ti rimane questo indicatore. Che è il MOL, 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 ok, abbiamo spiegato a chi ci ascolta un'altra cosa che magari io per esempio non sapevo si chiamasse così, ecco vai, continua, è interessante, questo è interessante. In italiano si chiama margine operativo lordo, però se qualche imprenditore in ascolto dovesse andare in qualche banca, probabilmente per tirarsela qualcuno userà l'inglese e magari gli parlerà di EBDA o EBITDA, secondo di come vogliono parlare. EBDA, ok. Sì, vuol dire earning before interest, taxes, depreciation and amortization, cioè gli inglesi parlano in modo più chiaro di noi. Questo indicatore è il guadagno prima degli interessi, delle tasse, degli ammortamenti e delle svalutazioni, cioè è quello che ha in tasca prima di pagare le banche, gli ammortamenti e le tasse. Ed è quindi un indicatore molto usato dalle banche. Ecco, il dato drammatico è che noi avremo come dato tra il 2019 e l'anno 2020, noi abbiamo avuto una perdita del 20% di questo indicatore. Cioè, è vero che il fatturato cala dell'11 o del 10, ok? Ti ricordo Fabio che erano le previsioni mie, no? Tra un 10 e un 15%. Però il dato importante è vero, il fatturato delle aziende italiane calerà dell'11, ma il MOL cala del 20. Cosa vuol dire? Che la marginalità cala, attenzione, a livello italiano, molto più grave di quello che ci raccontano. Non so se mi spiego. Sì, sì, è chiaro. Ecco, l'altro indicatore ancora più importante è un indicatore economico fondamentale che si chiama ROE. ROE è una parola inglese, la devo dire. Return on equity. Vuol dire ritorno sull'equity sarebbe il patrimonio netto. In poche parole, se io imprenditore metto del denaro in un'azienda, quanto guadagno di quel denaro? Cioè, è l'aspettativa dell'imprenditore. Ti ricordi che io dicevo, smettiamola cari giornalisti, di dire le aspettative degli imprenditori sono positive a settembre o le aspettative sono positive a ottobre? Sono tutti indici statistici, sono puttanate, sono minchiate. Il ROE, che invece è un dato di analisi di bilancio, ci dice che gli imprenditori perdono da un 35 a un 40%. Allora, mettetevi nei panni di uno stipendio di un lavoratore dipendente che gli togliete da un 35 a un 40%. Questo è il significato. Cioè, le aziende non sono più bancabili. Vado avanti sulla slide numero due. Qual è la situazione media delle aziende italiane? Qui ci sono altri tre indicatori. Ti chiedo scusa, Fabio, ma questi sono ragionamenti tecnici? Ma io penso che bisogna parlare in termini tecnici dell'economia, non con logiche da bar. Allora, io... Ma no, bisogna dire le cose alla gente come stanno, con i numeri che vengono estratti dalla realtà. Questi sono numeri della realtà. Gli unici che si sottraggono, mi viene da dire, perdonami la battuta, farà una slide e l'altra, Gli unici che si sottraggono alla realtà che hai detto prima, sono quelli, per esempio, che se si chiamano Elkan e fanno le mascherine e ne fanno 20-30 milioni al giorno, quelli si sottraggono da quelle realtà che hai detto te, ovviamente. Io sto parlando, Fabio, di piccole e medie imprese. Delle aziende di tutti. Le aziende italiane, quelle che fino all'altro ieri, tenevano in piedi questo paese e pagano le tasse, eccetera, eccetera. Ecco, uno potrebbe dire... In Italia. Pagano le tasse in Italia, a differenza da questi altri che abbiamo citato prima. Prego. Bravo Fabio, esatto. Ma voglio farti osservare che la gente non ha esattamente la percezione. Uno dice, vabbè, ma lei parla delle piccole e medie imprese e trascura le grandi imprese. Sapete perché lo faccio? Perché mica tutti sanno che le piccole e medie imprese in Italia sono il 99% del campione, dato da un 95% di micro imprese, cioè di aziende fino a 10 dipendenti, e da circa un 4% di aziende fino a 50 dipendenti. Quindi, non so se ci capiamo, poi ci sono le aziende fino a 250 dipendenti. Parliamo complessivamente di circa il 99% delle aziende italiane. Do tre indicatori molto gravi per chi capisca, voglio capire cosa succederà l'anno prossimo. Poi dicono, sono una Cassandra. Guardate qua, i debiti finanziari sul patrimonio netto è un indicatore fondamentale di bilancio. È il rapporto tra il debito, chiamiamolo bancario, e il patrimonio netto delle aziende. Noi già avevamo un rapporto molto alto, 61%, nel 2019. Nel 2020 va al 68%, quindi peggiora tanto. Gli oneri finanziari sul MOL, il MOL ti ho spiegato prima Fabio che cos'è. Sì, certo. Bene, allora, se io devo pagare poi gli interessi, devo sapere rispetto al margine che ho quanto ammontano. Ammontavano al 12%, vanno oltre il 15%. I debiti finanziari sul MOL, che quindi vuol dire non il flusso, gli oneri finanziari sono gli interessi passivi. Quello che tu devi pagare gli interessi alla banca. Il debito invece è lo stock, quanto tu hai sul MOL, passano da un 3,2 al 4,5. Ora uno potrebbe dire, vabbè, ma 3,2 al 4,5. Beh, no, ragazzi, è un aumento del circa 25%. Quindi vuol dire che peggiora la situazione del 25%. Non so se è chiaro. Voglio farvi vedere. Allora, ecco, io faccio praticamente l'utente medio che non è esperto di economia e che sta ascoltando la lezione del professor Malvezzi dove ci spiega perché le cose vanno male. Quindi io ti faccio le domande come se te le facesse un ascoltatore. Allora, io ho capito, fino a qui ho capito, ma se c'è una cosa che ho capito ascoltandoti e poi tra l'altro per chi ci guarda in tv e per me che sono qui in studio ovviamente vedo anche i grafici che poi le persone possono rivedere su YouTube, Radio Radio TV e il nostro canale dove verranno postati tutti questi video, tutte queste lezioni del professor Malvezzi. Ecco, io da quello che capisco, Valerio, voglio dire che non c'è chance, cioè la fine è piscina. Cioè, i numeri, io ho fatto 2 più 2 dalle cose che hai detto fino adesso e ho detto come fanno le imprese a stare in piedi oggi. Sì, però Fabio, una cosa importante, io dico queste cose, ne parlo a te perché grazie a te che sei un editore, come dire, intelligente dai un servizio, dal mio punto di vista, di pubblica utilità. Poi venga un altro a dire che non sono veri questi numeri, questi sono dati Cerved e tra l'altro ringrazio i dottori Cappuccini, Franzo e Bastiani che li hanno elaborati. Questi sono dati Cerved, quindi chiunque li può andare a consultare. Quello che voglio dire è, ma il governo dov'è? Cioè, quello che bisognerebbe fare, cioè io devo raccontare una realtà perché non sono il primo ministro italiano, ma se io avessi davanti questi numeri, la prima cosa che farei è chiamerei un tavolo mondiale e direi bisogna cambiare le leggi di Basilea, cioè le leggi che regolano i rapporti tra le banche e la concessione del credito alle imprese, perché quelle leggi potranno andare bene per il settore delle macro e mega imprese, le quali hanno le obbligazioni, il canale diretto, la borsa. C'è tutta una letteratura scientifica che spiega che invece queste aziende di cui sto parlando io, soprattutto in Italia, vanno sul sistema bancario. E dato che il sistema bancario è retto dalle leggi di Basilea, o noi cambiamo le leggi di Basilea, o questi poveri cristi saranno a terra, non avranno il credito. Ma il problema vero è cosa succederà ai lavoratori dipendenti, e i dati ve li ho fatti vedere la scorsa settimana. Quindi io mi dico, ma va bene che state occupandovi di una buffonata come la lotteria degli scontrini e creare un meccanismo di delazione delle persone, ma cosa aspettate? Occuparvi delle grandi problematiche come le leggi di Basilea? Queste sono le domande che io faccio al governo italiano. Vorrei far vedere l'ultima slide. Prego. Ecco, questo Fabio era la situazione media Italia, ma la domanda che faccio è ma cosa facciamo per quei settori che vi ho fatto vedere la scorsa settimana? La moda, i trasporti, il turismo, la ristorazione, eccetera, eccetera. Cioè, quei settori che sono in ginocchio, cosa succederà? Eh, ve lo faccio vedere adesso. Questo è l'ultimo grafico. Allora, anche qui, le aziende più colpite dalla crisi, la prossima settimana cercherò di mettere insieme queste informazioni per dare delle dimensioni del problema. Per adesso vi dico, le aziende più colpite dalla crisi, cioè quelle di cui vi ho parlato la scorsa settimana, guardiamo i numeri. Fabio, noi avevamo un rapporto già terribile, debiti finanziari su patrimonio netto 90%. Che è pesantissimo. È pesantissimo. Voleva dire che quei settori erano settori che avevano un livello di debito rispetto al patrimonio, è un rapporto che si chiama DER, Dette Equity Ratio in finanza, cioè debiti finanziari su patrimonio netto era il 90%, passa al 117,5%. Cioè è una roba mostruosa. Gli oneri finanziari... Diciamo che è molto grave. Se andiamo a guardare le regole di base della finanza, sei tecnicamente fallito. Secondo le regole di Basilea, ora ci vorremmo un'ora solo per parlare di quell'indicatore, però sei completamente fuori standard. Gli oneri finanziari sul MOL erano il 14%, non so se ti rendi conto, vuol dire sul tuo margine, non sul fatturato, tu pagavi già un 14% di interessi alle banche. Andrai a pagare il 25%, non so se è chiaro. I debiti finanziari su MOL erano il 5%. Fabio, vanno al 16%. Dal 2019 al 2020, vuol dire quasi quattro volte tanto, quasi quattro volte tanto debito rispetto a quello dell'anno prima sulla marginalità economica. Io non so se si capisce cosa sto dicendo, ma mi stupisco che il governo italiano non parli di queste cose invece che dei problemi di genere. Perché questi sono gli argomenti che domani io da cittadino vorrei sentirmi dire. Perché questi sono i problemi sull'occupazione. Se saltano questi sistemi, noi andiamo a perdere milioni di posti di lavoro, ma qualcuno lo vuole capire o no? Altro che andarci a preoccupare delle ore nelle quali fare il veglione di Capodanno. Ma lo capite che ci sarà gente che non ha i soldi per andarsi a mangiare un piatto di lenticchie oppure no?